buonasera ragazzi eccoci qua di ritorno sul tubo nuovo video con un mazzo in realtà vecchio però ho deciso di portarvi un adattamento per farvi capire un po' qual è l'evoluzione che viene fatta in termini di deck building per un mazzo basandosi sul meta che si sta trovando in quel momento in lad i mazzi cambiano si evolvono in continuazione e ovviamente le tech in best of one sono sempre graditi perché spiazzano parecchio opponent oggi siamo tornati in ladder e abbiamo scalato da posizione circa 180 in realtà non so di base la partenza perché non viene rancata sul profilo fino nuovamente alla vetta mondiale di magic arena incostruito abbiamo utilizzato un golgari del quale vi avevo già parlato con un po' di cambiamenti circa 6 carte di differenza quindi andremo a vedere la lista e andremo a motivare intanto vi faccio una breve passata su quelle che sono state le statistiche della run odierna 21 5 poi in realtà ho modificato ancora il mazzo per fare le ultime tre partite che mi hanno portato a rancuno ma nonostante le tre vittorie su tre partite i cambiamenti non mi sono piaciuti quindi la lista che vi voglio consigliare è comunque quella che ho utilizzato durante la running stream moderna allora vado un po' a ingrandirvela e farvi vedere bene quali sono le carte e qual è la motivazione eccoci qua eccoci qua sulla lista di golgari allora ci sono stati i cambiamenti come notate abbiamo inserito un assassin's trophy abbiamo inserito una golden demise midnight reaper 1 2 più o meno ci sono sempre stati switchavano indipendentemente un meta questa volta ho optato per 2 doppia valasca golgari queen un solo find broker invece 0 valasca content come la passata versione e anche 0 dunes rispetto alla versione precedente 2 vivient 3 tyrant e 4 find le terre non sono mutate allora ho deciso di apportare questi cambiamenti perché uno trovavo un po' meno monored del solito del solito e un po più mirror quindi questo mi ha fatto portare la scelta di midnight reaper a 2 stabile in questa meta dove monored si molto presente ma non è più sicuramente mazzo dominante il mazzo dominante in questo momento non c'è il meta è abbastanza splittato quindi avrò deciso di spalmare un po' quello che è il nostro mazzo su prestarsi bene contro tutti dures l'ho levata principalmente perché non ci sono nemmeno troppi bolloni è un meta dove si gioca principalmente aggro midrange qualche contro il misto quindi carte situazionali vanno molto molto poco bene e un'altra delle carte che ha pagato sicuramente d'azio in questa scelta è stata aldas tribone da 3 per addirittura 0 ho preferito mettere della golden demise perché aiuta sicuramente di più contro aggro ed è assolutamente inaspettata anche se devo essere sincero l'ho pescata molto poco e un trophy carta basica nel momento in cui vengono a mancare i vlasco content a volte abbiamo bisogno di una rimozione e trophy a differenza di content ci dà la possibilità di andare a rimuovere magari anche la scanta o magari l'incantesimo il classico binding che ci prendiamo che ogni tanto rompe davvero le scatole fight broker preferito portarle una perché per quanto sia una carta davvero di valore infinito in questo mazzo risulta essere un po troppo clunky un po troppo greedy come scelta quando te ne trovi una due tre mano un po troppe quindi decisamente una carta solamente da late game hanno partito inizialmente con due soli tyrant alla fine sono tornato a tre e credo questa sia la scelta il mazzo come vi dicevo già nel precedente video tende a soffrire principalmente se stesso e basta nel senso che è un mazzo solido e molto forte che gioca da tutti ma a volte trova delle start piuttosto clunky che si incastrano male e magari in determinate partite ci sono delle carte chiave che se non vedi soffri carnage talent ad esempio da mazzi come grixis è abbastanza una creatura letale wild growth walker è l'unico vero killer di mono ride che abbiamo in deck e in generale ci sono le carte che possono essere delle bombe o delle cioffecche esempio midnight reaper fortissimo il mirror buono contro contro debolissimo contro monolette golden demise viceversa contro 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 abbastanza schifoso quindi queste sono le modifiche più o meno e io credo di essere arrivato abbastanza verso la fine a quadra nel senso che se il meta evolverà ovviamente io andrò a modificare la mia decklist in base ai mazzi che sto trovando ma credo che questa lista abbia rispetto alle precedenti che vi ho elencato più stabilità è il vero mvp di questa lista è vlasca e golgari queen ci metto la firma e ci scommetto provatela belli ciao alla prossima